Vi sentite abbandonati? Abbandonati per quanto riguarda i marciapiedi, la pulizia delle strade. Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, la differenziata, funziona discretamente. Cosa manca? La pulizia. Dal punto di vista invece della sicurezza? Della sicurezza, mancano un po' di segnaletica, sembra un villaggio che si faccia da solo, fatto ed abbandonato. Siamo un po' abbandonati a noi stessi dal momento che non c'è tanta pulizia, non ci sono strisce pedonali. Abbiamo problemi soprattutto su questa strada con la luce, più e più volte segnalati, ma mai avuto risposte. Con gli alberi ho chiesto di farli un po' potare, ma non ho mai avuto risposta. Come dicevo all'inizio, siamo abbastanza abbandonati a noi stessi. Voi invece vi sentite abbandonati in questo villaggio? Siamo abbandonati, non è che ci sentiamo, siamo. Infatti, guardi un po' in giro che cosa si vede, niente. Chiediamo di tenere più in considerazione il villaggio artigiani, nel senso della manutenzione delle strade e anche delle altre cose. Ma alla fine, quando manca il lavoro, manca tutto.